È il momento della verità. Anni e anni di propaganda, di belle parole, di fiumi d'inchiostro sui giornali a denigrare. Le infiltrazioni clandestine della Santa Chiesa all'interno del tessuto organizzativo e sociale del Sud Italia oggi verranno messe a dura la prova perché il momento della guerra è arrivato. Da ormai due anni Clan Legge Italica è partner di Eneba.com. Visita attraverso il nostro link che puoi trovare nella home page del canale, il marketplace più conveniente dove acquistare tutti i tuoi giochi preferiti e non solo. Un sito sicuro, affidabile al 100% ed europeo, ricco di novità ma anche di tutti i titoli che hanno fatto la storia del gaming. Su Eneba.com puoi trovare sconti incredibili su giochi, applicazioni PC ma anche abbonamenti per Xbox, console e molto altro a prezzi stracciati. Acquistare su Eneba è facile ed oltre a farti risparmiare aiuta anche la nostra community a crescere. Tutti i titoli AAA del momento e i grandi giochi in prossima uscita già disponibili in preorder. Seleziona il prodotto che stai cercando e ricorda, al momento del checkout, di inserire il codice sconto clanlegio per ricevere un ulteriore sconto. Eneba.com, il marketplace europeo per i ciccioli belligeranti più esigenti che vogliono spendere poco. Parola di Dictator. Ciccioli belligeranti, buongiorno e bentornati in questo nuovo appuntamento. Sì, con l'Italia di Evo, la Kaiser Redux, la nostra serie autarchica. Tutto pronto ragazzi, tutto pronto. Oggi dobbiamo partire con una run veramente, veramente veloce, agile e rapida. Perché qua abbiamo la capitale alle porte Firenze, ma soprattutto dobbiamo anche cercare di andare a portargli via quelli che sono gli altri punti vittoria all'Austria che sta avanzando anche abbastanza veloce. L'Emilia-Romagna ragazzi è già pressoché perduta perché il quartetto Parma-Modena-Bologna-Ravenna già sono sotto controllo degli austriaci e questo non è bene. Allora, siamo pronti ragazzi. Io direi dichiariamo guerra e andiamo subito con i punti che ci siano tenuti da parte a correre in total mobilization. proprio rapidi, agili. Allora, per adesso no, beh, la coscrizione dovrebbe andare bene. Io opterei per un utilizzo veramente, veramente aggressivo. Abbiamo anche 100 giorni di carburante raga. È 100 giorni di carburante. Vediamo di aumentare la presenza dei CAS. Vabbè, ma l'Interception non ce ne frega assolutamente niente. Noi dobbiamo andare per la guerra offensiva, quella dura, quella più cruda. Via, si parte! Si parte, si parte, si parte! Voi dovete rannare verso Torino. dovete rannare, dovete rannare verso Torino. Rannatemi San Marino. Rannami Firenze. Avanti, 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 avanti. Veloci, 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 veloci. Qua è fondamentale, fondamentale, fondamentale. Prendigliela già che sei qua. Prendigliela già che sei qua. E poi riunisciti ai fratelli che vanno a Torino. Ok. No, come è ferito? Pietro Ago! È l'ago della biloncia. È l'ago della biloncia. Pushing, pushing, pushing. Che è pushing? Che è pushing? Che è pushing? arrivano i carretti del piacere. Arrivano i carretti del piacere. Molto bene. Allora, mettiamo in pausa un attimo, ragazzi, perché qua abbiamo un sacco di cose da accettare. Innanzitutto i non-aggression pact, che peraltro saranno anche abbastanza, come dire, volubili, nel senso che dureranno tanto quanto la guerra, quindi poco. Mi auguro. Mi auguro. Allora, noi che cosa non produciamo? Noi non produciamo attualmente motorizzate. Non produciamo motorizzate. Noi potremmo alzare anche la production di Fighter. E via. avanti, 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 avanti. Ok. Ok. Dobbiamo essere velocissimi qua. Dobbiamo essere veramente veloci. Qui siamo un dietro con la tower ed artillery. Allora, possiamo anche spostare, possiamo anche spostare la nostra aviazione. Possiamo spostare la nostra aviazione e portarla sulla Po Valley, perché adesso qua dobbiamo andare avanti. Ok. Veloci verso Nizza. Veloci verso Nizza. C'è la battaglia di Torino, ragazzi. Battaglia di Torino. Caduta Nizza. Caduta Nizza. Si circonda. attenzione. Ok. Presa Torino. Capitolata. Capitolata. Allora, è come previsto, ragazzi. Per l'Emilia-Romagna non c'è niente. L'Emilia-Romagna e Lombardia sono state occupate dall'Austria prima che noi entrassimo in guerra. Quindi io direi take all states. Possiamo farlo. Direi di sì. Quindi ci portiamo a casa. Toscana-Umbria. La regione nella zona di Viterbo. Le Marche. La Spezia. La Savoia. Savoia? Anche la Savoia. Incredibile. Cagliari e Sassari. Direi che non è male. Direi che non è male. Giubilo. Giubilo. Attenzione, perché il nano da giardino riprende Piemonte e Savoia e la Sardegna. Adesso può fare un party. Può fare un party. Il nano da giardino, mio signore. Guardalo qua. Che piacere effimero. Allora, procediamo per ordine. Procediamo per ordine. Allora, qua direi che tu potresti continuare con le construction. Siamo nel 38 e adesso qui la faccenda inizia a farsi abbastanza seria. Seria? Come direbbe Bembe. Seria? Allora, intanto abbiamo sbloccato due decisioni del risorgimento, mio signore. E il risorgimento, come vi abbiamo detto in passato, lo facciamo a modo nostro. Possiamo stabilire i nostri claim irredenti su Nizza e sulla Savoia. E noi direi facciamolo. E noi facciamolo. Dopodiché io opterei per per la dislocazione del nostro esercito ai confini con il laido austriaco invasore. Perfetto. Allora, noi adesso potremmo anche pensare di valutare quel focus carino e coccoloso carino e coccoloso del research slot. fammi vedere come siamo messi con la radio. È per carità. E noi dovremmo fare questi prima. Novembre 39. Andiamo indietrissimo noi. Andiamo veramente indietro. Niente, utilizzeremo i piccioni viaggiatori, mio signore. Eh, mi sa di sì. Eh, mi sa di sì. Allora, fabbriche invece ne abbiamo un bel po', eh. Fabbriche ne abbiamo un bel po'. Noi, con la ricerca dei carretti della meraviglia, che cosa... Noi stiamo cercando, orora, il cannone del 39. Stiamo ricercando il cannone del 39 che potrebbe farci comodo per i nostri carri. Quello che però non abbiamo, che dobbiamo ricercare, sono le parti del motore e della... dell'armor protection. 366 giorni. Noi, dal focus, possiamo avere dei bonus all'armor? Abbiamo 200% per l'armor technology. Allora, motorized offensive, armor division attack, motorized attack, mechanized attack. Non male. Non male questa cosa. Quindi noi possiamo anche pensare... Oh, il Sovereign Beyond State, mio signore, ci dà anche lui un research slot. E ci dà i core su Venezia, Friuli, Malta, San Marino e Lazio. Questo è importante, dobbiamo farlo. Allora. King and our warrior nobility have established the total dominance. We must now recognize our internal nation. Le caste. Pieno potenziale. Con gli schiavi, i servi e i mercanti. Risposta alla nobiltà. Ok, questo qua ci dà un... Un bel malus, eh. Però bisogna vedere perché rimpiazza il sistema delle corvè con il sistema delle caste. E bisogna vedere... Infrastructure, construction speed, civilian factory, meno 2. Mentre invece con quell'altro cosa ci dà? Vediamo un po'. Ci abbassa la popolazione, ci aumenta la construction speed. Civilian factory construction speed, meno 3%. E dà ancora un ulteriore malus alla ricerca. Mamma mia, raga. Mamma mia, raga. Allora. Eh, dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo. Ragazzi, no, qua non ce la facciamo più. Rimarremo arretrati come dei pinguini. Cioè, eh... C'è poco da fare qua. C'è poco da fare. Anche perché a noi oggettivamente, raga, ci servono. Allora. Intanto, l'Italian Federation è un puppet occupato. È un puppet occupato. Allora, noi adesso continuiamo con i nostri focus. Vediamo anche qua se possiamo, in qualche modo, tirare fuori roba. Direi, voi me ne tirate fuori uno e me lo tirate fuori in Piemonte. Poi continuate il training uno alla volta, direi, in Toscana. Così almeno questo sistema dovrebbe permetterci, in qualche modo, di difenderci. Allora, sull'Adriatico noi abbiamo Ancona e il porto di Bari che andrebbero difese. E proviamo, proviamo a metterci queste. Purtroppo... Purtroppo è quello... È quello che è, eh. Cioè, non è che possiamo fare chissà che cosa. Ma vediamo un po'. Sì, signore. Ok. La brigata Mazzini, mio signore. Oh, mio Dio. Io direi, tu potresti difendere anche Palermo. Siamo a mettere dei piccoli contingenti. Dei piccoli contingenti a difesa dei nostri porti. Se gelia. Eh, sì. È così, ragazzi, è così. Perché dove diavolo l'abbiamo andato adesso, quell'altro? L'Aido, insulso, traditore. L'Aido, insulso, traditore. Abbiamo tolto quello di Ancona. Pronto, signore. Vai lì. Perfetto. Allora, adesso facciamo lo spiritual. Abbiamo guadagnato un research slot. Io direi questo. Questo qua. Potremmo utilizzarlo. Per aumentare la nostra produzione. Per aumentare la nostra produzione di carri. 38, 39. Iniziamo a fare questo. Noi, che nuove risorse abbiamo guadagnato qua? Acciaio. Beh, alluminio. Poco tungsteno. Beh, c'è anche qua il tungsteno, però, in realtà. C'è anche lì la gomma. Eh, noi non abbiamo il petrolio, raga. Noi non abbiamo il petrolio. Questo è un grosso problema. Questo è veramente un grosso problema. Allora, noi potremmo prenderci questo, che ci dà uno sconto all'Armor Research Time. Ci serviranno dei carrettini, eh. Dei carrettini ci serviranno per forza, cicciuli. Dai, Julius. Attenzione, l'Iran dichiara guerra all'Ottoman Empire. Ullala. Egyptian War on Ottoman Empire. C'è stata la ribellione... C'è stata la ribellione dei puppet. Il problema, sapete qual è, raga? È che in sta mod... L'Africa... Cioè, o meglio, il Nord Africa... C'ha una mazza. Ma sai che noi quasi quasi... Potremmo anche pensare... Paternal Autocrats. Autoritarian Democracy. Autoritarian Democracy. Noi potremmo valutare, eventualmente, una guerra sugli ottomani. Potremmo provarci. Cosa dite? Ottomani che sono un po' pressati ovunque. Noi potremmo anche decidere di approfittarcene pesantemente. Tanto noi, al momento, con l'Austria, abbiamo il Non Aggression Pact. Fino all'ottobre del 39. Quanto ci mettiamo a conquistare sta gente? 140 giorni. Al costo di 28. Sai che noi potremmo... Potremmo fare una Gallipoli 2.0, in realtà, eh? Potremmo farla una Gallipoli 2.0. E provare uno sbarco, incredibile. Un po' di flotta ce l'abbiamo noi. Mio signore, è insulsa, però. È insulsa, ma... Mamma mia, ragazzi. 3, 3. Questo è il migliore che abbiamo. È il nostro... È il nostro ammiraglio... È il nostro ammiraglio che non ammiraglia. È il nostro ammiraglio che non ammiraglia. È l'Ambrosiana Class. Facciamo degli improvement, va. Mamma mia, ragazzi. Che... Che marina oscena che abbiamo. Che marina oscena che abbiamo. Allora... Political Power più 100. Goods Factory 25. Military Two Civilian Factory. Dovremmo farla. Ci toglierebbe 5 di Stability. Eh, ma ho capito. Ma poi mi cambia la legge. Perché se non me cambia la legge, io me ne sbatto. Io me ne sbatto anche dei 5 di Stability. Quello di cui invece non me ne voglio sbattere è un attimino. Andare a vedere che qua, in Toscana e in Umbria, abbiamo comunque l'80% di velocità di costruzione. Che non è affatto male. San Marino ha 100 di infrastrutture, mio signore. San Marino ha 100 di infrastrutture. Perfetto. Noi... Noi potremmo, eh. Noi potremmo farlo lo scherzetto all'Anatolia. Allora, abbiamo detto 28-29 di Political Power. Ci servono. Fammi togliere il ciclo. Giorno e notte, giorno e notte. 24 ore in funzione. Ma questo generale qua fa così schifo, mio signore. E il Giuseppe Izzo. Achille Starace. Starace è quello che abbiamo mandato... Beh, Giovanni Messe direi che è il migliore che abbiamo al momento. È proprio il migliore. Guerrilla Fighter. Tu prenditelo. Altri però... Diamogli fiducia a Izzo stavolta. Izzo! Izzo! Ma non so se farlo o no, sta cosa. Vabbè, facciamola. Completiamola, completiamola. Ci riporta in partial. Allora. Ci sono delle... Delle rivolte. In Calabria? A Brucalifo? Il suo mandamento? Cacchio! Qua si sta a rivoltare il mandamento. Lui è l'altro. Lui è l'altro. Carino. Lasciamo un po' Evola va con questo cappello che ricorda molto i bersaglieri. Adesso abbiamo il political power. Lo famo? 35 giorni. 35 giorni. A 3, 6, 9, 10. 3, 6, 9, 10. Vediamo se voi riuscite a partire da Taranto e sbarcare a Costantinopoli. Se ce la fate. Allora, vediamo un po' la nostra marina incredibile. La nostra marina incredibile. No, ma il mare di Marmara, però, a noi non interessa. No, noi potremmo sbarcare nel Dodecaneso, in realtà. Noi potremmo sbarcare nel Dodecaneso. Esatto. Pronto all'azione. Quanto ci vuole per preparare sto sbarco? 37 giorni? No, 70 giorni. 37 per i convogli. 37 per i convogli. Ci potrebbe stare. A fare questa cosa incredibile potremmo utilizzare... Potremmo utilizzare messe? Anche se non ha alcun tipo di capacità, mio signore. Però, mamma li turchi! Mamma li turchi! Ordini! Ok, vediamo un po' come siamo messi qua. Abbiamo anche tre antitank, incredibile. Eccezionale, veramente, cioè. Eccezionale. Voi venitemi già in Calabria. Che poi dopo dobbiamo mandarli giù, velocemente. Allora, per la nostra divisione Garibaldi, a T10 Cartillery non ne abbiamo abbastanza, ricercata la radio, 173 giorni di radar. Veramente! 173 fottuti giorni di radar! 313 per quello del 41 mi sembrerebbe un po' eccessivo. Mi sembrerebbe un po' eccessivo. Io andrei a prendermi i fighter del 40. 291 head of time, però è tantino, eh. Per le nostre tasche è un po' tantino. Ricerchiamo... Ricerchiamo la radio, va. Tu sei in giorni per la radio. Il mondo ce l'ha dal 36. Non siamo più affetti... Attenzione, spiritual casteism. E adesso, attenzione. Attenzione. Perché questo... ci dà i core sull'Austria. Quindi dobbiamo anche stare attenti adesso sull'Austria, eh. Dobbiamo anche stare attenti sull'Austria. Andiamo in Do Not Engage. Ok, cosa abbiamo ricercato qua? Il cannone-cannone. Perfetto. Io direi che potremmo prenderci anche l'Improve Artillery. Così, poi dopo... Però aspetta, questo qua non c'è dava... No. Era di qua. Così poi dopo ci prendiamo il 200% per andare a sbloccare velocemente il cannone successivo, ragazzi. Quindi cerchiamo così di mantenerci abbastanza moderni nei confronti di tutto il resto. Ok. Allora. È pronta... È pronta la giustificazione. È pronta la giustificazione su questi Laidi. Ma siamo a metà del piano. Siamo a metà del piano. Allora. Allora, 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 allora. Noi abbiamo anche in teoria... Vediamo se ci ha sbloccato qualche decisione qua in alto. No, non ci ha sbloccato nessun tipo di decisione. Anche perché il focus del Sovereign qua non l'abbiamo ne ancora terminato. Io direi... Io direi, ragazzi. Ci fermiamo qua che abbiamo la giustificazione pronta contro l'aido turco invasore. Invasore no, però, diciamo, nelle nostre menti ci ha deturpato l'animo. Nel prossimo episodio muoviamo guerra sulla Turchia. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi do appuntamento nel prossimo video. Se non mettete tantissimi like e lasciate tanti commenti io butto Giulio Sevola dentro il Tevere. Sappiatelo. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao belli! Sous-titrage ST' 501